Salve a tutti, sono Franco Bellanca e sono stato nominato da mio cugino Gigino Bellanca. Per me è stato un onore partecipare a questa causa nobile che ha contribuito per la ricerca sulla SLA, una malattia molto seria e che speriamo al più presto ci sia una soluzione. Questo è il mio bonifico che ho effettuato, ecco qua, e dopodiché, come si suol dire, il fine giustifica i mezzi. Nomination! Complimenti! Allora, volevo fare le mie nomination all'assessore Giovanni Gian Lombardo, a un carissimo amico mio Giovanni Cicala, e come altra persona, un altro amico mio anche, il mio cugino, Giuseppe Stanò. Alla grande! A voi la risposta! Piano piano piano! Vai! Cazzata! Nota se il ghiaccio! Sì! Ciao! Cosa è come... Salve dueddzi! Alla呉... Cosa è come... ... Grazie a tutti